Iniziamo questa sera un ciclo di incontri, un ciclo seminariale insieme a dei partner istituzionali locali di Roma che vanno dal Dipartimento di Scienze Giuridiche della Sapienza, alla Libera Università Metropolitana, al Centro di Ricerca per la Riforma dello Stato, alla Fondazione Basso. Dunque l'Istituto Svizzero, non per la prima volta, sviluppa un progetto insieme a delle realtà scientifiche, politiche della città di Roma, un ciclo che cerca di interrogare alcuni concetti chiave, alcune parole chiave dell'attuale dibattito italiano, ma anche europeo, ma anche svizzero, dunque dal federalismo alla democrazia, alla cittadinanza, alla Costituzione, allo Stato. Tutto questo perché si tratta di concetti che hanno una loro storia, un loro peso e che sono in trasformazione. È un ciclo che però anche cerca di interrogarsi su come funziona un'accademia straniera a Roma, cioè in che modo un istituto come quello svizzero, nel suo piccolo, sviluppa progetti di ricerca, eventi e dunque un ciclo che anche prova a mettere insieme ricerca e divulgazione, dibattito, creando dei formati forse un po' diversi, un po' nuovi. Ad esempio in questo ciclo ci saranno, oltre agli incontri pubblici che si svolgeranno qui all'Istituto Svizzero, ma anche nelle altre istituzioni qui a Roma, che saranno appunto incontri e dibattiti con figure importanti che hanno in qualche modo anche segnato il dibattito su questi grandi temi. Oltre a questi incontri pubblici avremo anche dei cosiddetti laboratori nei quali un gruppo ristretto di ricercatori che vanno dal docente al giovane ricercatore di varie discipline, perché non sotto il diritto, si interrogaranno sui confini del diritto e su questi singoli concetti chiave. Lo faranno partendo anche da testi degli autori, dei relatori invitati e da bibliografia, dunque lavorano sui testi, preparando anche i dibattiti per dare maggiore ricchezza, maggiore profondità anche a questi dibattiti. Dunque vogliamo anche un po' uscire fuori dai rituali accademici, non ci interessa in questo senso l'autorappresentazione, la retorica, ma ci interessa veramente cercare in questo ciclo, passando da una parola chiave all'altra, approfondire e sviluppare queste tematiche. Cominceremo questa sera con il federalismo, intanto perché siamo un istituto svizzero e il federalismo, come si sa, è legato come esperienza storica alla Svizzera, ma non soltanto per questo, perché pensiamo che il federalismo sia un tema che tocca l'Italia, ma anche l'Europa, dunque che va ben al di là della semplice, diciamo, del raccontare che cos'è la Svizzera federalista e dunque questo è il primo incontro che vedrà a confronto René Rinoff, che è una più importante figure scientifiche e politiche della Svizzera, e Giuseppe Duso, un filosofo che in Italia ha lavorato moltissimo sui concetti, sui concetti anche storici, dunque anche sul federalismo. Vogliamo cercare di, anche in questa serata, di abbinare come in tutto il ciclo riflessione teorica ad aspetti pratici, riflettere su pratiche giuridiche, sul modo in cui si usa il diritto oggi da un lato e sul modo in cui la scienza giuridica riflette sul diritto, ma questo appunto in un modo transdisciplinare, non ci limitiamo a un dibattito giuridico nel senso stretto, ma vogliamo appunto uscire fuori dai confini di nuovo stretti della dogmatica giuridica e riflettere anche a partire da aspetti filosofici, politici, ma anche di altre discipline. Dunque in questo senso è anche un'apertura alle varie discipline. Speriamo con questo ciclo di dare a Roma, alla città di Roma, degli stimoli alla comunità scientifica, politica, degli stimoli per riflettere sulle varie crisi che tutti quanti ci toccano, chi più chi meno oggi, anche su varie alternative possibili nel pensare democrazia, Stato, cittadinanza eccetera.